benvenuti a roma se state pianificando una vacanza in questa città e tra le mete che preferireste raggiungere a piedi ci sono castel sant'angelo e la basilica di san pietro l'hotel meridiem visconti potrebbe fare al caso vostro si trova dietro il palazzo di giustizia comunemente chiamato palazzaccio che affaccia sulla bella piazza gavur in una zona ricca di ristoranti caffetterie e negozi questa struttura che ospita 240 camere tra superiore suite fitness center diverse sale meeting e un bar bistro il longitude 12 è il luogo ideale per chi ha voglia di vivere roma passeggiando essendo anche vicino a diverse fermate di metropolitana e autobus quella in cui ho soggiornato è una camera doppia ed è subito evidente la pulizia l'ordine e la luminosità a vostra disposizione c'è un bollitore tè della linea twinings tisane della viropa e bustine mono usso di nescafè per meglio orientarsi tra i servizi dell'hotel troverete anche un comodo dispenser con all'interno delle brochure il guardarobo è spazioso e al suo interno troverete ciabattini in spugna per la doccia dei sacchetti per la biancheria la casaforte e delle shopping bag comode non si sa mai la toilette è semplice e ordinata gli asciugamani e teli doccia sono in morbida spugna e a disposizione c'è un asciugacapelli i prodotti per la cura del corpo e dei capelli sono della linea new yorkese melin & gates ma veniamo alla parte che preferisco il letto due guanciali uno più soffice spesso dell'altro le lenzuola sono di morbido cotone e il coprimaterasso in spugna il materasso è della simmons modello caress alto 28 cm con topper in fibre di poliestere strato in poliuretano indeformabile e molle rivestite con una struttura non flip system per una portanza equilibrata è decisamente una combinazione rigida ora non ci resta che salire al settimo piano sulla terrazza e ordinare qualcosa da vedere il mio voto è un 8 bello pieno è il mio voto è un buon